Ciao amici del TGA Events e benvenuti in questa nuova puntata in questo nuovo episodio di pillole di marketing dai vostri Marco Anelli e Marion Boniforti. Tra le nuove professioni emergenti non possiamo di sicuro fare a meno di menzionare la figura del closer. Il closer potremmo definirlo come l'evoluzione della parte commerciale di una volta ma con una sostanziale differenza. Se i primi canali di promozione online erano considerati opzionali oggi sono diventati indispensabili sia per le piccole e medie imprese che per i commercianti e sono quindi diventati la fonte di contatti numero uno in assoluto. Oggi quindi nell'era dei contatti digitali una nuova figura professionale altamente richiesta e pagata è destinata a diventare un punto di riferimento per le vendite moderne e questa figura è il closer. Il closer quindi è un professionista qualificato che ha un ruolo ben preciso e cioè quello di trasformare i contatti che hai acquisito online in tuoi clienti. Qualsiasi cosa possa accadere nella tua attività imparando l'abilità maestra del closing non resterai mai senza soldi. Ed è per questo che ti consigliamo di approfondire e di prendere in considerazione questa nuova professione digitale che rappresenta sicuramente un'opportunità straordinaria. E per pillole di marketing per oggi è tutto ci vediamo al prossimo episodio seguici sulla nostra pagina di instagram marco e marion metti anche un mi piace anche sulla nostra pagina facebook marconelli marion moniforti seguici sul sito marconelli marion moniforti.com insomma chi ne ha più ne metta ma soprattutto per qualsiasi domanda o curiosità non esitare a contattarci e saremo molto felici di risponderti.